La mia passione per il cinema risale a quando sono veramente piccolo, non c'è stato proprio un vero e proprio inizio, ho sempre amato il cinema, non so, la prima telecamera l'ho avuta quando avevo più o meno 9-10 anni e da lì facevo piccoli corti con i pupazzi. Non c'è stata proprio un'idea di base, ma il corto è nato un po' per caso perché ho conosciuto Mario che sarebbe il capitano del peschereccio Nova Zita ed è stato lui a chiedermi se volevo salire in barca e riprendere e allora dato che in quel periodo mi stavo interessando la pellicola e insomma provare di sperimentare la pellicola, ho deciso un po' di unire le due cose e quindi da qui è nato il corto insomma. Sì, poi io per realizzarlo fortunatamente Francesco Ballo che è il mio professore di storia del cinema dell'accademia aveva questa vecchia bolex degli anni 60 che mi ha prestato e ho utilizzato quella e la pellicola l'ho trovata su ebay, scaduta. In Nuova Zita ci sono diversi aspetti proprio legati alla vita di tutti i giorni e alla quotidianità come per esempio il dialetto e questo aspetto diciamo che emerge sempre nei miei lavori perché c'è sempre uno sguardo rivolto verso un po' la tradizione, continuare una tradizione insomma anche la base culturale da dove provengo e poi dall'altro canto c'è anche una sorta di sperimentazione legata anche ai linguaggi più diciamo artistici che proviene da un lato direi a un certo modo di girare che insomma del cinema d'underground americano come Jonas Mekas, questa improvvisazione, questo non controllo dell'immagine e dall'altro è legato molto anche al cinema di De Seta quindi un po' il connubio tra questi due elementi insomma tre parole per descrivere Nuova Zita direi improvvisazione, sinfonia e materia a presto! a presto! a presto! a presto! a presto! a presto! Grazie a tutti.